Il nostro ruolo in studio di registrazione, parlo per noi batteristi jazz, non mi avvicino alle problematiche che può avere un batterista pop perché ritengo che almeno al 50% siano diverse dalle nostre. È un altro tipo di musica con altri vincoli sonori, timbrici. Noi siamo un po' più liberi, a meno che non ci sia un gruppo e un leader che desidera determinate sonorità, noi jazzisti in studio siamo più sereni. Vi porto la mia esperienza. Io ho registrato più di 300 dischi, sicuramente con un centinaio di gruppi diversi, in 40 anni dico chiaramente, e di stili diversi. Anche non specificatamente jazz, perché io ho fatto anche tanti dischi con Enzo Iannacci, che voleva sì con sé dei musicisti jazz, ma però poi si registravano dei brani pop. La stessa cosa mi capita attualmente con Paolo Iannacci. Mi ha fatto il suo ultimo disco, nel quale di jazz non c'è neanche una nota, a parte una ballad, proprio suonata con le spazzole, con l'idioma jazzistico. Così come mi è capitato di fare dei dischi col click. Aiuto, io non sono un batterista da click, però insomma ho messo in moto un po' di mestiere, un po' di concentrazione in più e ho fatto pure quello. Con Massimo Ranieri. Massimo Ranieri sostanzialmente il gruppo Malia, non il suo gruppo pop. Il nostro gruppo, con Rita Marco Tulli, Enrico Rava, Stefano Di Battista e Riccardo Fioravanti, è un gruppo jazz. Abbiamo fatto due dischi bellissimi e tutti noi abbiamo suonato con la nostra personalità jazzistica, con un'attenzione al fatto che è comunque un gruppo che sostiene la vocalità di Massimo Ranieri, che non è un cantante jazz. È un meraviglioso interprete. Quindi anche lì è una situazione jazz, ma come per i annacci, vicina al pop. Come mi comporto in studio? Intanto tralascio di raccontarvi i miei primi dischi, nei quali ero giovanissimo e anche molto inesperto. Dopodiché ho capito che c'è una sostanziale differenza tra suonare in studio di registrazione rispetto a suonare live. Per esempio, certe dinamiche molto basse, che noi jazzisti adottiamo nel live, in studio non escono, anche con la tecnologia più all'avanguardia, con le macchine, i computer e i microfoni più pazzeschi. Se io voglio suonare pianissimo per creare qualcosa di evanescente, con la dinamica 1, dal vivo funziona. La dinamica 1 in studio non funziona, perché le macchine meno di tot non prendono. Per cui ho già la prima regola da raccontarvi riguardo alla mia esperienza. Se voglio registrare un brano potenzialmente con dinamica 1, in studio quell'1 diventa 7, 10. E tutto è di conseguenza. Il suonare forte, come riesco a suonare forte io nel live, in studio deve essere un pochino più forte. Quindi si impara anche a gestire il proprio suono, migliorando il proprio suono, sapendo che la condizione sonora in studio, premesso che ci sia un fonico pazzesco, con una strumentazione incredibile, uno studio meraviglioso, deve essere tutto rapportato in maniera diversa, con una sostanza di volume un pochino più esasperata rispetto al live. Dopodiché la microfonazione in studio, secondo me rispecchia la stessa che si adotta nel live. E in questo caso subentra l'esperienza gezzistica del fonico. Stefano Amerio, cavalicco, udine, è in assoluto, non me ne vogliono gli altri, perché ci sono tantissimi altri fonici meravigliosi che conosco e che frequento, però Stefano Amerio è quello che più di ogni altro ha capito l'essenza dell'idioma gezzistico registrato in studio. Non per niente Stefano è uno dei più blasonati fonici d'Europa, fa anche i dischi per le CM, Stefano. Marty J. Robertson è sua allieva, è un'altra sound engineer pazzesca che capisce tutto ancora prima che tu gli chieda delle cose. E poi ci sono, adesso non voglio fare l'elenco dei fonici e degli studi, a Milano ce ne sono, io sono di Milano, anche se abito a Como, ma questo chi se ne frega, a Milano ci sono degli studi così come a Biella, così come in Sicilia, Piazza Armerina, c'era, non so se c'è ancora perché non frequento più quel giro, ma insomma diciamo che fonici che sappiano registrare jazz e lo studio e la tecnologia adeguata. Il volume, vi dicevo, per quanto mi riguarda le dinamiche non possono partire da una base troppo bassa perché i microfoni non ci arrivano, quindi tutto un po' più forte. Un'altra cosa che io adotto quando suono in studio è di razionalizzare meglio quello che voglio fare. Se nel live mi arrischio anche a fare delle troiate che magari funzionano o magari no, in studio cerco di ridurre la possibilità di rischio. Poi ci si può anche azzardare a fare delle robe pazzesche che magari funzionano e se non funzionano ci si ferma e si rifà il pezzo, non è che sia questa grande tragedia. Un'altra cosa che ritengo indispensabile è di avere la capacità di ascoltarsi come se fossimo dall'altra parte. Capita spesso di suonare tutti insieme un brano per il quale siamo tutti felici e contenti, ma bisogna correggere delle piccole cose. Ecco che in questo caso noi jazzisti non siamo assolutamente diversi dai musicisti pop. Utilizziamo la tecnologia, utilizziamo il digitale e il computer. Mi è successo mille volte di spostare un suono di un tamburo, di un piatto dal computer. Allora aspetta, questo qui mettilo insieme al basso. Pac, perfetto, con le macchine fai tutto, non c'è problema. La capacità di ascoltarsi come se fossimo ascoltatori di noi stessi è per ridurre i tempi morti. Quindi io ho suonato in quel modo, in quel punto del brano ho fatto quel fill che è convogliato in quel suono di piatto, mentre lo sto suonando io l'ho codificato. Quando riascolto il brano io so già che quel punto poteva eventualmente essere pericoloso in relazione a un accordo del pianista o a una nota del basso e quindi so già cosa dire al tecnico. Attenzione, in quel punto lì, se mi ricordo bene, ho fatto una cosa che sicuramente non funziona. Allora mettiamola a posto, fammi sentire, ecco lì, metti a posto, stringi, metti un po' a sinistra, un po' a destra. Quindi si diventa un po' fonici di se stessi per curare le dinamiche e riuscire a ottimizzare la propria esecuzione del brano sapendo già, intuendo già quale potrebbe essere un eventuale problema da andare poi in regia a correggere immediatamente. E questo fa parte dell'esperienza del lavorare in studio. Chiaramente, come in tutte le cose, si impara facendo, non c'è altro sistema. Quindi direi, per riassumere, accordatura, quella che mi pare, microfonatura, quella che decide il fonico, rispettando possibilmente la microfonatura del live, quindi i panoramici per i piatti che prendano anche il suono del tom e il timpano o dei tom e il timpano, microfono del rullante sopra e sotto, i-hat sì o anche no e la cassa. Dopodiché ecco che si percepisce nella registrazione il suono della batteria come corpo unico. Questo per me vale sia nel live che in studio. Il volume, adeguare i volumi un pochino verso l'alto. Se non siamo sicuri che l'affiatamento tra i musicisti ai massimi livelli possiamo buttarci ad azzardare delle cose, tanto gli altri ci beccano al volo, anche in quel caso allora io riduco parzialmente quello che è il mio lato creativo, il mio lato sperimentale, per essere sicuro di andare bene a tempo, di avere dei bei suoni, delle belle dinamiche, di fare dei bei feel senza azzardare robe strane. Altra cosa, appunto quello di suonare e di avere la capacità che si acquisisce col mestiere, di intuire durante l'esecuzione di un brano quali possano essere i punti pericolosi per eventualmente andargli a correggere senza dover rifare tutto il brano. Un'altra cosa, l'ultima, chiaramente succede a volte di suonare tutti nella stessa stanza e lì chiaramente aumenta il fattore rischio perché se si suona tutti nella stessa stanza non hai la possibilità di regolare i volumi strumento per strumento dato che i microfoni della batteria rientrano in quelli del pianoforte o in quelli del sassofono e viceversa e quindi bisogna in quel caso essere un gruppo molto ben rodato che sappia esattamente quello che deve fare in modo tale da ridurre il rischio che se sbaglia uno bisogna rifare tutti. Viceversa, la comodità di avere uno studio nel quale tutti si è nella propria stanzetta questo problema non c'è. Poi ognuno rifà la parte specifica che gli serve. Altre cose che mi vengono a dire no direi che ho detto tutto. Ecco. Se avete dubbi o richieste chiaramente questa nostra rubrica è fatta apposta chiedetemi e così aggiungo. Ciao.